eccoci qua riprendiamo la linea e subito facciamo entrare la porchetta l'ospite misterioso tra virgolette che misterioso non è sicuramente molto molto pesante sono otto mani che l'hanno trasportato ma quante mani l'hanno cucinato chi me lo racconta come viene fatta allora questo bellissimo signore venga qua anzi allora andiamo ci spostiamo entri pure qua allora nome e cognome che io non lo so io sono rinaldi natale di rioloterme ok allora natale già stiamo vicini al natale quindi va benissimo e sta porchetta insomma quanto tempo c'è voluto e beh c'è voluto tre giorni l'abbiamo disossata poi condita per 24 ore legata e cotta 10 ore al forno legno mamma mia e io ho visto che quando è arrivata stamattina era ancora tutta un pochino coperta poi con tanta attenzione dopo viene messa lì e con tanta fatica ma quanto pesa era 78 kg e la miseria 78 kg e ci vuole un allora è suino anche questo mora romagnola giusto quindi pura pura e ci vuole un suino di un'età particolare di una caratteristica particolare beh sarebbe meglio un po sul giovane perché dopo come come si sa la mora produce molto lardo e insomma c'è molto da scartare ecco la pezzatura migliore sarebbe dei 40 e 50 kg però noi abbiamo esagerato anche perché qui la gente siamo tanti grazie mille allora natale allora il ragù chi me lo racconta maria è un ragù normale quindi con tutto normale io non so fare neanche gli strichetti pensa te no è un ragù di mora romagnola e quindi ha un sapore ben diverso dal dal ragù normale che facciamo sempre e quindi ci abbiamo fatto un bel soffritto di aglio di cipolla sedano e carota e poi dopo abbiamo aggiunto la carne fatta rosolare poi dopo sfumata col vino e poi dopo abbiamo messo il sugo e ha bollito quattro ore quindi la cosa che emerge sono i tempi lunghi di tutte queste preparazioni che sia nella stagionatura della mora nella suo allevamento che sia nella preparazione della porchetta che sia nel fare il ragù e anche tutte le altre cose pensate le crostate ne parleremo nel finale perché arriviamo al dolce volevo fare un sipario coi formaggi allora qui intanto vediamo alcuni prodotti sempre portati dal mondo spadoni che c'è dentro perché io non riesco a leggere dall'altra parte lo stanco perché è stanco perché è un formaggio a latte crudo vaccino latte proveniente dalle miglia romagna ci teniamo a metterlo in evidenza perché il connubio fra gli allevatori e i trasformatori poi dopo portano a risultati e in relazione alla temperatura a cui lo si serve più si alza la temperatura più lui si stanca si scioglie per quello che ce l'avete lasciato tutto bello coperto così adesso non è ancora stanco lo stancate dopo per i commensali che arrivano numerosi uno contro tutti ma abbandono un attimo la nostra bella tavolata perché qui la folla è già tanta e tra l'altro personaggi importanti perché condividere il pane e il vino ma anche il compagnatico in questo caso che è molto sostanzioso è un elemento importante della convivialità e della condivisione giovanni mosciatti vescovo di questa diocesi allora lei ancora secco per quello che riguarda il compagnatico il pane però pane e vino ci sono ma festeggiare così una giornata in solidarietà quanto è bello è bellissimo ma poi noi impariamo da gesù le cose migliori gesù le ha fatte a tavola e quindi impariamo da lui e poi oggi è la giornata dell'amore ogni volta che avete fatto queste cose le avete fatte a me ogni volta mi colpisce che è ogni volta anche se uno non se ne accorge l'abbiamo fatto a lui è molto bello quello che sta dicendo anche perché davvero abbiamo detto che tutta questa giornata diventa un'occasione per sostenere gli istituti scolastici di questa bella vallata del segno che naturalmente è stata colpita da questa tragica alluvione e quindi l'elemento solidale che si unisce con la buona cucina romagnola cosa c'è di meglio di più bello a nessuna ma che bella questa cosa della scuola perché avere questa attenzione per la scuola vuol dire avere l'attenzione per il futuro e avere attenzione per le giovani generazioni che è decisivo non c'è ricchezza più grande della scuola per questo che se avete così a cuore questo siete giù la giusta strada allora io adesso vado a riappropriarmi della mia tavolata che è già tutta preparata sarebbe anche il caso che andate a mangiare però no ma anche per lei perché mi sembra che qui sia tutto vuoto non arriva più niente ormai no 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 arriverà glielo assicuro anzi vado a sentire da chi pesta il pepe se arriva qualcosa di buono la morla romagnola poi è eccezionale buona giornata poi vedo anche altri formaggi altri prodotti perché tra l'altro qui le aziende agroalimentari del territorio romagnolo sono veramente importanti e veramente fanno le cose per bene i vini che me li racconta il presidente no il presidente li beve li beve c'è qualcuno che li beve ma li sa anche raccontare perché qui ci sono un bianco e un rosso ma soprattutto ci sono due aziende importanti del territorio io personalmente conosco chi me lo racconta francesco dal monte allora da riolo terme a bagnara già questo mi sembra un contesto meraviglioso allora il mondo ferrucci un uomo che veramente ha fatto la storia del vino stefano ferrucci le sue figlie che oggi continuano domus caia il vino per eccellenza ma anche questo non scherza se in effetti hai detto tutto tu gabriella penso che siamo su su un livello molto alto ecco la storia di tra l'altro stefano ferrucci e run lions ha fatto molto per questo club e tanto gli si deve dare ancora e grazie al ferrucci ecco poi questo è il mondo dei rossi che abbiamo abbinato così ai salumi ma poi uno bianchi rossi insomma va sempre bene la abbiamo invece una alcune bollicine che rappresentano un'altra azienda un bianco diciamo allegro bollicino ovviamente diciamo più da compagnia più tranquillo però molto molto buono ecco e quindi ci siamo fatti un po tutta la tavola lì tra l'altro c'è anche una bella spia mi è andata via maria l'ho persa è andata a lavorare in cucina quella è una spianata fatta tutta da voi a mano che bravi pronti qua sono tutti pronti perché si comincia allora e invece queste crostate che mi hanno detto sono stato una lavorazione lunghissima chi è che le ha è sempre maria pierangela avanti su anche io ma non tantissimo mi hanno detto che avete impastato un numero enorme di uova un numero di io purtroppo non so quantificare ma credo un centinaio abbondanti di uova e poi c'è tutta la lavorazione uova farina burro il lievito tutto amalgamato con amore c'era una signora che proprio se voleva sempre sentire con le mani tutto lei perché doveva effettivamente il burro doveva essersi olto alla maniera giusta e così via poi dopo le abbiamo preparate messe nella teglia con tutti i vari gusti perché abbiamo fatto anche perché ci sono varie farciture tra l'altro perché vedo qua che ci sono le noci e i fichi caramellati ricotti e fichi poi ce n'è ai frutti di bosco agrumi e cannella ricoperta di cioccolata e un'altra solo di nutella che è l'ultima là in fondo praticamente mamma mia che meraviglia cosa questo abbiamo detto che è il salame crudo che si sta cuocendo in graticola alla brace e quindi anche questa è una tra l'altro una cosa tipica anche di quando si disfaceva il maiale perché è un prodotto tal quale abbastanza fresco quindi lo si poteva fare subito dopo altri formaggi li vediamo cosa ho dimenticato ho dimenticato qualcosa volevo solo ricordare in finale presidente che il Lions Club Valle del Segno molte fa come iniziative proprio a fini solidali è la mission del club e questa sagra è una delle perle che si inserisce proprio all'interno del territorio e tra l'altro mi diceva insomma bagnare è stata proprio accogliente perché in questi sette anni si sono fatti i passi avanti tra l'altro noi stiamo tenendo fuori le persone per un po' perché tutti volevano già arrivare alle nove di mattina volevano già presto qui Romagna qui si fa colazione con con tante cose anche salumi formaggi però diciamo adesso alle 12 inizieremo però ho detto una cosa giusta noi quest'anno ci siamo dati una parola d'ordine con tutto quello che è successo nel nostro territorio è inutile stare qui a ripetere perché ormai la conosciamo tutti la nostra storia che tra l'altro recentemente si è ripetuta anche in molti territori abbiamo creato questa nostra volontà nel nostro consiglio di destinare il più possibile i proventi da tutte le nostre attività di quest'anno alloionistico appunto a tutti coloro famiglie o organizzazioni istituzioni che hanno subito danni da questa alluvione, dalle frane, da tutto quello che il nostro territorio ha sofferto negli ultimi mesi quindi per quest'anno ci sforzeremo il più possibile di avere anche eventi alla Romagnola che ci fanno dimenticare un po' tutte le sfortune che ci hanno oscillato che speriamo finiscono ma sentendo i meteorologi un po' è un terno all'otto però a parte questo credo che alla Romagnola l'ironia romagnola della vita è anche quella di dire che si può contrastare la sfortuna, si può cercare di avere una possibilità a tavola anche non è dire a tavola non si vecchia mai a tavola ci si intrattiene con familiarità, con amicizia per uno scopo anche molto importante come questo certo, poi la tavola è condivisione, accoglienza e naturalmente io dico sempre è il sorriso della vita perché rappresenta proprio uno dei momenti più belli e partecipativi a questo proposito allora noi siamo ancora dietro ad una tavola però davanti abbiamo il vino, ognuno si munisca del proprio calice perché vogliamo concludere con un bel brindisi un bel brindisi, io faccio il rosso allora un bel brindisi che va naturalmente a questo bellissimo mondo del Lions Club Valle del Segno a tutti questi volontari che hanno lavorato per tanti giorni e continuano a farlo a questo intento di solidarietà nei confronti della popolazione che è stata danneggiata tantissimo dall'alluvione sia le persone sia i territori, le case e tutto e naturalmente lo vorrei fare anche ai nostri meravigliosi prodotti mora romagnola in primis allora cin cin un brindisi a tutto un brindisi anche aspettando le feste che stanno per arrivare e un brindisi anche a noi di Con i Frutti della Terra a cielo aperto perché vedete in sovrimpressione quando e come ci potete rivedere, contattare e comunque seguire cin cin, bianco e rosso, bianco e rosso ma guarda come ci siamo alternati bene, fantastico allora con le mie sdore oh la Maria manca poverina, lavora sempre quindi brindiamo alla salute della Maria per finire grazie a tutti in collaborazione con grazie a tutti